Muscolo manzoni, manzoni. Iè, becca di sta botta di cottura! Ho mancato! Ma che fai? Ma sei proprio una bezzia, sei. Usa questo o no? Ma che c'è fa? C'è troppo leggero, diè. Per liberarsi dagli scarafaggi c'è Vape Tecno Concentrato. Ne basta poco per proteggere a lungo. E contro le formiche c'è la speciale cannuccia. Vape, protezione amica. Leggere attentamente le avvertenze, aerare il locale prima di soggiornarvi.